c'è una vicenda per fare un catturale ma la città è una macchina dalle punte e il catturale non c'è una macchina non c'è una macchina ma la città è una macchina la macchina è una macchina insomma, ci sono due fanno tutte le tue da qua fino a poco fa ne hanno passato quattro Dove c'entrano sulla montagna e passano da qua e fanno salgo e scendolo tutti i giorni, però non mi hanno dato fastidio. Tutta la giornata fanno così, fino a mezzanotte. Abbiamo visto che passano, vanno in paese e poi la sera tornano a casa. Il fastidio? Prima non lo facevano, che scassavano i casi. Passo da gruppetti di qua, della via depositi. Non lo so, li vedo scendere da là sopra, non so. Sicuramente perché c'è il centro accoglienza là sopra. Scendono di qua. Ha gruppi da 4, da 5, da 6, da 8, da 10. E preoccupati sì perché, che ne so, stiamo tutti con le porte chiuse perché chissà, come noi dall'Avra, magari si fermano dentro. Magari questi hanno bisogno, hanno fame, si fermano dentro. Che ne so, buh. Per me infine non succede niente e non disturba nessuno. Poi non camminare. Sai quanto ci pensiamo noi? Quando succede qualcuno e c'è un morto a mezzo alle strade. E noi tanto ci arrabbiamo tutti. Non disturbiamo, infine ora non disturbiamo nessuno. Per me invito. Poi che vede. Quello, ragazzo. Se è capace. Poi. Poi. Più. Poi. Da.